Lo sapevate che nei film e nelle serie tv per far piangere un bambino nelle scene che lo richiedono viene fatto credere loro qualcosa di terribile oppure si dà di matto fino a terrorizzarli? E vi faccio tre esempi. Il primo è il film Skippy del 1931. Sul set di questo film il regista Taurog per spaventare il piccolo attore Jackie Cooper vi fece credere che in caso non fosse scoppiato a piangere avrebbe sparato al suo cane. Altro esempio Exodus, film del 1960. In questo caso il regista Otto Preminger durante una scena che prevedeva la presenza di tanti bambini per far sì che questi piangessero raccontò loro che le madri li avevano abbandonati e che non li avrebbero riviste mai più. Ultimo esempio, l'uomo senza volto. In questo caso Mel Gibson diede di matto e la piccola Gabby Hoffman si cagò addosso e scoppiò a piangere.